Non solo il Super Green Pass. Dal 6 dicembre ci sarà un grosso cambiamento anche per gli studenti dai 12 anni in su. La novità infatti prevede che gli scolari non vaccinati, per poter salire sugli autobus per arrivare a scuola, dovranno essere muniti di Green Pass. Una normativa che entrerà ufficialmente in vigore il 6 dicembre e che sarà valida fino al 15 gennaio del prossimo anno, comprendendo dunque anche il periodo natalizio. Questo vuol dire che ogni ragazzo, per poter raggiungere il proprio plesso scolastico con un mezzo pubblico, dovrà disporre di un classico tampone rapido che certifichi la negatività al Covid-19. Un test antigenico, come noto da diverso tempo, ha una durata di 48 ore e stando a quanto previsto dall'ordinamento, ciascun alunno dovrà farlo ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Tre volte a settimana può rappresentare un problema, soprattutto per i genitori, anche della provincia di Pesaro Urbino, che facendo già due conti in tasca, non hanno esitato a sollevare numerose polemiche. Entrando nel dettaglio, nelle farmacie del territorio, il prezzo medio per ogni tampone si aggira sugli 8 euro per i minori di 18 anni e sui 15 euro per i maggiorenni, considerando che un massimo di tre tamponi ogni settimana può provocare una spesa da 24 euro in su. L'introduzione di questa normativa ha scatenato inevitabilmente tante divergenze, ma il motivo per cui è stata provata è molto semplice. Il numero dei contagi sta risalendo e si sta concentrando sulla fascia giovanile.